Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Viola Blog, come vedete alle mie spalle la prima squadra è già in campo dopo la trasferta dell'Olimpico, già pronta per la prossima sfida che sarà tra tre giorni contro il Cagliari. No! Ah! Vai! Come arriva l'Olimpato? Vai! Vai! Andiamo all'ultimo. Tieni tutti di fondo. E adesso qualche battuta con Martini in squadra. Grazie per rivederti riconfermato titolare dal primo minuto. Un tuo giudizio sulla partita di ieri? Sì, bene, dopo dei due mesi che non giocavo, mi tocco volere a stare. Sono contento, credo che veniva lavorando per questo e, bene, grazie a Dio mi pudo toccare. Lo personale, buone sensazioni. Come equipo, credo che abbiamo per il momento buone cose e credo che bisogna continuare lavorando. Sicuramente potremmo portare questo avanti. Tra tre giorni la partita contro il Cagliari. Speri di essere riconfermato titolare? Sì, beh, dipende ovviamente del tecnico. Lo che tocca, io voglio continuare lavorando. Grazie. A te. Grazie a tutti. Vi do appuntamento a domani. Saremo dalla Fiorentina femminile che ieri ha battuto il Milan nella semifinale di Supercoppa. Il 10 ci sarà la finalissima contro la Juventus.